A 40 anni dalla tragica morte, Cava dei Tirreni non dimentica la piccola Simonetta Lamberti. Il sindaco, la cugina e lo zio dell'undicenne, Agatè e Alfredo Lamberti, hanno deposto un fascio di fiori al monumento nel parco Falcone e Bolsellino di Viale Crispi, che ne ricorda l'omicidio avvenuto per mano della camorra, che aveva nel mirino il padre e il magistrato Alfonso Lamberti, l'uomo rimase ferito nell'agguato. Un episodio terribile, sono passati 40 anni, questi 40 anni ogni anno la città di Cava dei Tirreni ha ricordato il tragico sacrificio di Simonetta Lamberti. Questo episodio ha dimostrato alla nostra città, negli anni, che nessuno è esente dal rischio e dal pericolo delle penetrazioni dei fenomeni criminali e quindi ha sempre invitato la nostra città a tenere la guardia alta. Il messaggio che ancora oggi si è voluto lanciare qui con la famiglia è soprattutto alle giovani generazioni a difendere sempre i principi di democrazia, di libertà e di legalità. Un dolore indelebile per la famiglia. Un sacrificio che coinvolge praticamente tutti i bambini, nel senso che quella, come dico sempre, della fagiulezza è un'età straordinaria, perché, lo dico sempre, è l'età del sogno e quindi non si può distruggere i sogni. È un delitto, come dire, imperdurabile.